Zoe, oggi siamo in un tycoon dove dobbiamo sconfiggere un miliardo di zombie, sei pronta? Oh, sono prontissima! Ok, allora, iniziamo a comprare le cose che ci servono. Ecco, come vedi, già praticamente abbiamo gli scienziati che stanno studiando un attimo il genoma degli zombie, così che possono sconfiggerli. Io intanto creo, ovviamente sono quello che investe in tutto questo. Oh mio Dio, Zoe! Oh no! Ecco! Il virus! Il virus degli zombie! Oh no! Ti sto prendendo già nel corpo, per questo mi sono messo bene e ho creato anche le mura, perfetto. Ok, mettiamo anche l'orologio. Ah no, non è un orologio, è la pistola! Ah, Glock! Oh, bello! Così noi possiamo sconfiggere gli zombie. Ottimo, perfetto così. Bello! Oh sì, altro che se è bello. E credo che posso fare una cosa, posso comprarmi questo che potrebbe servirmi. Aspettate, faccio così, uno e due. Ok, così ho il per due dei soldi che posso acquisire. Molto bene. Tu Zoe stai facendo tutto, vero? Perché lei avrà una base a parte, purtroppo ragazzi. Lei purtroppo non ci vede, ma poi vedremo ovviamente come sarà finita tra di noi. Ok, le finestre, faccio qua. Ok. Oh, bella quest'arma! Ma che figata, la tech! Oddio, adesso ho due armi. Wow, sta già comprando più armi. Sì, 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 sì. Eh beh, direi. Ok. Io prima voglio mettere tutti gli scienziati. Hai ragione, dovrei farlo. Oh, bello! Mi sa che questo lo prendo, il mad scientist. Ovvero, è uno scienziato che praticamente ha l'abilità di studiare meglio più di tutti gli altri. E qui io l'ho preso. Oddio, cos'è questo coso? Eh? Ma è invisibile! Ah, cos'è? Ah, il miner. Aiuto! Oddio, c'è un zombie, Zoe! Oh no! Oh no! Spara lì, spara lì! Giusto, gli devo sparare? Cavolo, perché non gli sto sparando? Eh, aspetta. Oh, cavolo. Mori! Oh, cavolo, di carica, di carica, di carica. Cavolo! No, 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 no. Oh, morto. Oh, mio Dio. Oh, cavolo, ma mi dà un sacco poi, tra l'altro, di soldi questo qua. Oddio, ci sono un botto di zombie che stanno arrivando qua davanti. Oh, cavolo! Perché questo zombie è quello più normale. Vabbè, ma quello zombie ha un'arma? Ha un'arma, quello zombie! No! Oh no, spriassa, attento! Aia! Mannaggia, devo ricaricare. Sbrigati. Ecco. Ho fatto, ok, li ho fatti fuori tutti. Oh, cavolo, ragazzi, devo mettere la porta. Ottimo. Oh, bene! Dove c'è uno scheletro? Adesso esplodono appena arrivano alle porte. Ok. Oh, guardate quante armi che ho qua. Perfetto. Ok. Ah, il mad scientist dovrei prendere. Ok, perfetto. Ora, vedete? Lui è, tipo, velocissimo. Non so, onestamente. Credo che, tipo, mi crea, appunto, il guadagno. I scienziati si fanno il guadagno loro. Ok, perfetto. Ok, double cash. Oh, ce l'ho pure attivo, il double cash. Dovevo attivarlo. Oddio, quanto va veloce! Ottimo, perfetto così. Io me li colleziono i soldi e posso, credo, coprire, tra l'altro... Oh, no! Come ha fatto entrare questo tizio? Dove, tu come te la stai riuscendo, no? Giusto? Sì, sì, sì. Oddio, c'è un tizio che salta! Un tizio che salta! Sì. Oh, l'ho fatto fuori, l'ho fatto fuori, meno male. Ok, ricarichiamo. Qua c'ho la Uzi. Ok. Oh, no. Oddio, c'è un gigante! Oh, no, 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 no. Vattene via. Ah, meno male che non puoi entrare. Oh, no, sì, che puoi entrare. Oh, no, 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 va via! No, zè! Oddio! Che succede? Ti stanno uccidendo! Oh, fortunatamente no! Ma tu come fai, zè? Io il per due sto avendo difficoltà. Tu come fai senza il per due? Mio Dio! Ogni in realtà non sto avendo difficoltà. Oh, cavolo, no, sono l'unico. Ok, bene. Lab walls. Oh, bello! Oh, così almeno possiamo proteggere gli scienziati. Oh, weapon walls. Oh, bello! Pure qua... Madonna, ragazzi, ma questo è troppo bello. Crea pure le stanze. Oddio. Ah, ok, va bene. Questi qua muoiono con la porta. Molto bene. Bravi, bravi, guadagnate! Zombie, guadagnate! Fate... Sì, zombie, voglio dire. Scienziati, guadagnate! Fate quello che dovete fare. Ok. Ragazzi, tra l'altro, lasciate like se vi piacciono questi tycoon e volete che noi ne portiamo altri, perché a noi piacciono un sacco ogni volta ed è divertentissimo farli. Già. Ok, bene. Qua i wall... Ok, qua ho creato anche il secondo piano. Sto creando il secondo piano così che, appunto, posso, appunto, prendere molta più roba. Gli scienziati possono andare avanti. Ok, molto, molto bene. Adesso, però, credo che la cosa migliore da fare, ragazzi, è quella di andare contro i nostri nemici e farli fuori, perché è divertentissimo! Oh, no, ma non zombie, mi ha lanciato una pietra. Oddio, oddio! Aia! Ma quello è uno scheletro? Ah, ok, è morto, meno male. Mi ha lanciato cosa? Una cosa, no, una pietra. Oddio, oh, ma che cazzo... Una pietra? Ah, ma c'è uno... C'è un fantasma addirittura, non sono solamente zombie. Sì, sì, ma non l'avevi visto. No, cavolo, non l'ho visto per nulla. Ok, molto bene. Questo è uno di fuoco! Ce n'è uno di fuoco? Io ho visto uno scheletro fuori. Un esplosivo! Ok, bravi. Eh sì, pure io! Guadagnate, 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 guadagnate. Io prendo intanto qua... Oddio, 20.000, 20.000. Già posso fare un sacco di cose. Ok, guardate, praticamente sto facendo in modo che tutta la zona sia murata. Così che appunto non ho problemi. Ecco, qua prendiamo altri scienziati. Ok, Dragunov! Bello il Dragunov! Oddio, l'arma che tipo si mira. È il cecchino questo. Guardate, guardate, guardate. Oh! Ah, morto! Che bello! Sto cecchirando le persone così, è spettacolare. Oh, cavolo, qua c'è qualcuno. Ok, morto, come l'ho detto. Ormai è troppo veloce fare così. Ok, prendiamoci altri soldi qua e usiamoli per darci una mano con altri scienziati. Ok, la boss. Sto facendo un sacco di soldi. Sì, anche io, anche io. Ok, ok. Tra non molto adesso posso mettere anche i muri della mia zona militare. Eh, tra l'altro qua ho visto che tipo davanti a questa zona ci puoi anche creare altre zone. Sì, altri muri, muri, muri. Oddio, ma è rosa questo coso! Ah! Uno zombie donna, cosa significa? Ok. Un minatore mi è spuntato dal terreno! Un minotauro. Un minatore. Ah, un minatore. Ho detto minotauro. Cosa ci significa? Un minotauro. Ok, 20.000. Bene, molto bene. Prendiamo tutto questo. Ok. Ok, finora io non sono morto. Quindi molto bene. Chissà cosa accadrà, porca miseria. Ho paura. Ok. Cos'è con tutto qua? Ah, è una torre d'avvistamento! Che figata! Ok. Beh, l'ho finita? No. Ok, no. Teard floor. Oddio, ma quanto... Davvero? Ma quanto è... Oh cavolo, ma sarebbe altissima! Sto facendo tipo una torre d'avvistamento altissima, Zoe. Le luci mancano. Oh! Me le metto. Ok. Molto bene. Oh cavolo. Mi sa che sta arrivando un gigante. Sento i suoi passi. Ok, bene. Continuiamo. Zoe, io poi voglio vedere casa tua. Come è messa? Come l'hai fatta? Perché sono curioso. Ok, intanto andiamo a comprare altre cose. Quindi qua ecco una cappa. Ma ci sono cose che posso comprare? No. Ok, no. Però sarebbe il caso di mettere i muri magari. Dove sono i muri? Walsh. Ok, ecco qua. Ok. Walsh ancora. Ok. Chi è questo qua che urla? Oh! Ma chi c'è? Oddio. Ah! Notizia della SWAT! Perché mi fa mirare? Aiuto! Aiuto! E' uno misterioso! Non mi fa mirare più! Non mi fa mirare più quello misterioso! Cavolo, devo morire. No, 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 no! Mamma, mi sta morendo. Io sono mortato un fantasma. Non si vede. Mamma mia, ti giuro. Invece io sto per creparci male, porca miseria. Dopo mi sto recuperando la vita. In serio, sì. Ok. 27.000. Mamma mia, 27.000. Dai, dobbiamo fare tutto il resto, ragazzi. Stairs, walls. Ok, bene. I walls ancora. Dov'è poi qua? Ho un air door. Balcony, second balcony. No, no, no. Aspetta, ma non posso fare... Trid floor, eccolo qua. Ok, bene. Ma io vorrei mettere... Scusa, ma non posso mettere altri scienziati? Cacchio. Io voglio fare ancora più soldi. Uffa. Ecco. Oddio, che accade qua? Oh, mamma mia. Ah, ok. Niente, stanno morendo. Fortunatamente ho fatto un muro che appena gli vanno addosso già muoiono subito. Quindi almeno questo è ottimo. Load out. Ah, posso fare un rebirth! Però non voglio farlo. Voglio vedere quante cose ne posso fare ancora. Intanto qua siamo a 24.000. Oh, che è successo? Mio Dio, santissimo. È esploso qualcosa. Oh, mamma mia. L'avete visto, ragazzi? Giorgio, ti giuro. Un esploso davanti a me ha fatto una... Sì, sì. Ma anche a me esplodono. Madonna. Weapons walls. Ok. AWP. Cosa? Ho l'AWP. Bellissimo. Ora sì che ci siamo. Ora, Oppo. Ti dice così quando usi l'AWP. Adesso, Oppo. Oppo. Oh, ok. Oppo. Ah, ecco. Ah, ecco perché mi piaceva mirare. Ah, chi è che evita? Ah! Oddio! Dov'è? No, non è meglio farlo utilizzare questa arma. Oh, cavolo, 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 cavolo. Me ne vado dentro. Me ne vado qua dentro. Dovrà arrivare qua dentro. Pur. In teoria. Ok, esplodete, esplodete. Sì! Oddio, ma cos'è? Lighting zombie. Oddio, uno zombie elettrificato come i creeper di Minecraft. Però è morto già. Bene, così. Ok. Ah, posso mettere i muri. Cacchio. Allora, a sto punto, mi metto già a fare i muri di fuori. Oh! Sorcer zombie? C'è uno zombie pure mago? Cosa? Ok. Ah, no, no. Ah, me ne è esplosono addosso. Oh, cavolo, 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 cavolo. Oh, cavolo. C'è uno zombie pure artigliere, tipo che lancia le bombe. Cosa? Oh, cavolo. Ok. Creiamo tutto. Bene, siamo arrivati a un punto in cui praticamente sto facendo la mia base, ragazzi, gigante. Mamma mia, proprio gigante. Oh, cavolo. Oh, ma quanti sono? Bravi, esplodete. Il maier, non so per quello motivo, diventa invisibile appena arriva davanti a noi. Ok, bene. Comunque stavo dicendo. Eh, dunque, qua, armory. Ah, ma qua ci sono altre armi che posso utilizzare. Ok, vediamo cosa posso allora comprarmi in quelle armi. Ok, vediamo armor daily missions. Ah, ho le missioni giornaliere, Zoe. Figo. Oh, sì, 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 l'ho visto pure io. In serie A, se c'è di 50, ti dà 50k. Ma, Zoe, ma nella zona delle armi puoi metterti pure l'armatura. Eh, sì, l'ho già fatto. Che figata, non so dovevo io. Oh, cavolo. Perché c'è un buon interrogativo davanti a questo disco? Come ho detto, ok. Morto, oddio, ma... Ha sciolto velocemente con questa mamma. Wow, eh, vabbè. Ah, ma mi dà pure i soldi appena uccidono gli zombie, cavolo. Allora è meglio farlo. Eh, sì. Ok, bene. Allora, outside walls. Oh, finalmente. Criamo dei muri di fuori, per favore. Così almeno non entrano. Ah, ci sono gli ingegneri, il bunker. Ma c'è un botto di roba qua che puoi fare. Sai cosa, Zoe? Adesso arrivo da te. Voglio vedere cosa sto facendo. Vediamo se riesco ad entrare. Aspetta, ma io come faccio ad andare da te? Ora, questa è una domanda lescita, credo. Devo correre, suppongo. Eh, già, vedi che ci stanno gli zombie. Ah, oddio, mi stanno seguendo. Mi stanno seguendo tutti. Il problema, per lo più, sai cos'è? Sono... È quello che praticamente spara, che mi prende da lontano. Oddio, intanto sento persone che spano. Madonna, quello lì, guardate. Quello lì è andato ancora più avanti, intanto. Sto arrivando da te, Zoe. Oddio, ma questo scheletro proprio non mi vuole lasciare stare. Vai via. Oddio. Ma lo vedi che in alto, tipo, ci stanno le teste dei... Le nostre teste, tipo? Sì, 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 stanno andando verso di te. Non c'è un modo per teletrasportarmi, in teoria. Non lo so. Perché sei lontanissima. Cavolo, sei troppo... Ah, no, sei lì. Sei lì già davanti. Ok, perfetto. Aspetta, ma tra l'altro, vedi, ci sono pure dei beacon verdi che vanno nell'aria, tipo... Quelle... Non lo so, sono tipo dei... Sì, ti vengo a prendere, io ho sbloccato i veicoli. Come sbloccati i veicoli? Ci sono i veicoli! Sì, dove sei? Che figata, sono qua, sono qua, dietro. Sì, tu, prendi, vieni, vieni. Oh, eccomi, oh, che figata. Ah, posso ucciderti? Ah, yeah. Andiamo! Sì, vado una cosa, aspetta, 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 vedo una cosa strana io qua davanti, tu la vedi? Cosa, sta cosa verde? Sì. Ah, puoi prenderla? Vediamo? Oh, l'hai presa tu! Eh, cosa fai? Take the barrel back to your base. Ah, dai, mi accompag... Ah! Oddio! Sani, ho smirso! Oddio, mi accompagna, mi accompagna, mi accompagna, mi accompagna, mi accompagna, mi accompagna, vabbè, ok, 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 ok. Ah, l'ho sbattuto. Ok. Ma cos'è? Ma li voglio uccidere. Ci sta, cioè, mi hai fatto la zona della... cioè, io ho già fatto il secondo piano e tutto, tu anche sei proprio partita per fare i veicoli. Senti, devi accompagnarmi a casa mia perché devo portare questo barile a casa mia, va bene? Ok, aspetta, ci do questi e se no ci fanno male. Come hanno detto? Oh, no, 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 no! Cavolo! Devo prenderlo. Oh, ok, ok. Prendilo, prendilo. Ok, dai, accompagnami. Oh, aspetta. Ok, andiamo! No! Sì, ok. Oppala, ok, bene, così almeno... Vediamo, voglio vedere cosa accade se... Oddio, c'è un fantasma. Oh! Ah! Ah, no, io andavo a tosso! Quelli ti sparano, ti fanno male. Ok. Non so, magari l'investivo. Eh, infatti, magari, effettivamente potevi investirli. Comunque, adesso voglio vedere cosa accade con questo barile e vedere se magari mi dà qualche soldo, magari. Chissà. Ok, eccoci qua. Siamo arrivati, vedi già io, tipo le torrette. Io ho già speso un sacco di soldi per proteggermi in generale. Eh, cacchio, è lì la macchina, non l'ho vista minimamente. Cosa accade se faccio così? Allora lo porto nella mia base, questo. Ma io non posso entrare. Eh... Non puoi entrare? Eh, devi aprirmi una porta. Aspetta, che devo fare con sto barrel? L'ho fatto. Non so, aprirmi una porta. Ah, come faccio? Qua, open... No, questo è open window. No, devi aprire... Devi cliccare la porta. Ah, ok, perfetto. Eh... Oddio, ma se mi sta fumicando tutto. Che devo fare a questo coso? Non lo so. Come te lo butto? Eh, buttalo e basta. Ah, non so cosa devo farci però con quella roba lì. Vabbè, chissà. Ok, intanto qua mi compro un paio di robe. Posso già comprare un botto di cose. Un botto di soldi tra la... Wow, ho sbloccato la mitraglietta! Ah, è pure le guardie! Ahia, ma mi fa male il tuo! No! Scappa, scappa, Zoe! No, scusa, non pensavo che ti sparassero! Oh mio Dio! Che pezzi di cacca! Mi sono venuti a sparare l'auto! Povera Zoe! Cioè, non ce l'ho accompagnato! Mi dovevo pure sparare, basta. Eh, non ti conoscono. Perché se non sparano? Pensavano che fossi il nemico. Ok. Eh, sì, certo. Ok, intanto io qua sblocco tutto. Oh, perfetto, tutto quanto. Ah, guarda qua! Ah, che figata! Guardate, Teo! Ah, che cos'è che posso fare qua? È l'eliped! Posso... No! Posso avere il mio elicottero! Ah, però serve un rebert per l'elicottero. Che scatole! Sì, serve un rebert. Ok. Eh, ma chissà, secondo te se faccio il rebert ritorna? Boh! Eh, nel senso, mi rimane? Boh, non lo so. Boh! Chissà, sarebbe veramente bello da capire. Ma vede cosa faccio il rebert, intanto siamo alla fine. Voglio vedere. Intanto questo barino non capito che cosa ci devo fare. Magari vi ho messo, sapete dire qualcosa nei commenti, ragazzi. Eh, intanto qua... Slowed out. Non posso fare il rebert? Ah, non posso ancora farlo! Oddio, che bravi che sono i miei titti che sparano qua! Mamma mia, bravissimi! Ok. Mega e exosuit. Ok, non lo so che cos'è. 63.000. Cavolo! Va bene, credo che ci siamo. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale e guardatevi a questi altri video. Ci vediamo! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!